Questa era un'occasione troppo ghiotta, permettetemi il gioco di parole, per non prenderla subito al volo. Quindi il Municipalità Arnella Vomero che anche questa volta è dalla parte delle nuove attività che servono per incentivare quanto più possibile la promozione della nostra città, ma soprattutto quella del commercio, e in questo spirito noi ci siamo mossi sul territorio municipale. Cioccoland, ma anche tante attività che vedono la preziosa collaborazione e il contributo delle attività commerciali che insistono sul territorio, a partire anche da quelle culturali come quelle per esempio che avremo all'interno dei locali della libreria Io ci sto. La quinta edizione di Cioccoland, la terra dei golosi, si terrà dal 13 al 17 febbraio tra Piazza Vambitelli, Via Scarlatti, Via Luca Giordano e Piazza Fuga. Il Vomero sarà quindi il territorio dove i maestri cioccolatai daranno vita ad una manifestazione che rientra anche nel programma di appuntamenti targati Napoli per Expo, che promuovono il Made in Naples e la cultura del cibo in vista di Expo 2015. Potremmo dire l'evento più dolce dell'anno da questo punto di vista, ma al di là della battuta siamo di fronte ad un evento importante perché è un'occasione qualificata di incontro fra le persone. Parla l'identità della città di Napoli perché che se ne dica la patria del cioccolato è Napoli e le origini del cioccolato napoletano hanno le loro radici nei secoli che abbiamo alle spalle. Terza questione, il secondo evento dedicato ad Expo, cioè la città di Napoli. Prima ancora che cominci Expo a Milano, già con alcuni eventi, questo è il secondo, dicevo, ricomincia ad affrontare i temi della qualità del cibo, dell'identità dello star bene. Cioccolat è un evento eccezionale che smuove esattamente in queste direzioni. Grazie.